In merito al tema d'oggi me la cavo elegantemente con uno civolo, dopo tutto siamo qui invitati all'Accademia dello Civolo e io civolerò via sul tema principale perché Loredana ha già detto tutto quello che conta, chi può essere più preciso di Loredana, diciamo il genio tutelare di tutte queste operazioni, non c'è Aldo senza Loredana, sono un duo inscindibile direi e quindi io non entro specificamente nello scivolo, scivolo via per dire e invece magari grazie di questo breve ricordo perché parlerò proprio della mobilità di Aldo, questo carattere suo costitutivo di mobilità incessante che a dire il vero mi aveva perfino sorpreso quando io stavo reclutando nella seconda metà degli anni 70 i cosiddetti nuovi nuovi.